Mancano pochi giorni al concerto di Daniele Silvestre, lo Stado Piuscio, nell'ambito della rassegna Communetè. Per presentarlo abbiamo invitato Fabio Molino, capo di gabinetto del Comune di Aosta. Buongiorno. Buongiorno. Un evento atteso di fine estate. Il pubblico come ha risposto? Il pubblico ha risposto bene, siamo a più di 850 biglietti e quindi attendiamo fondamentalmente l'incremento in questi ultimi giorni. Quindi non c'è ancora il tutto esaurito, ricordiamo il concerto è alle 18, quando? Il concerto è alle 18 del 29 di settembre al Parco Piuscio, si inserisce all'interno di una tre giorni molto fitta di appuntamenti tra cui il mercato europeo e di Leco successivamente. L'iniziativa è frutto di una collaborazione tra l'assessorato al turismo, l'offisso di turismo e ASCOM, Confcommercio e ovviamente i comuni di Aosta. Ci sono ancora dei biglietti disponibili? Ci sono ancora dei biglietti disponibili, tra l'altro i biglietti saranno disponibili anche il giorno stesso del concerto presso il botteghino che sarà aperto a partire dalle ore 15 al Parco e i cancelli apriranno poi alle 16.30. C'è una gratuità in particolare? Sì, c'è la gratuità per gli under 13, quindi i ragazzi sotto i 13 anni avranno la possibilità di accedere gratuitamente al concerto. Ecco, un evento che però va a influire anche un po' sulla viabilità della città di Aosta, come? Sì, ovviamente la viabilità già risentirà dell'evento del mercato europeo, nonché successivamente di Edileco. Piazza Mazzini sarà riservata agli espositori del mercato europeo e ai mezzi della produzione di Silvestri, quindi sarà inibito l'accesso dalla rotonda di via Garibaldi, l'accesso di via Vevey e l'accesso di via Lucà. Ecco Silvestri, lo abbiamo visto nelle immagini, l'ultima volta in Valle d'Aosta era il 2021, lui aveva inaugurato, insomma, Musica Stelle. Com'è stata l'estate culturale di Aosta, Valdostana, in base ai concerti? È stata ricca non solo di concerti, ma anche di manifestazioni sportive, ne abbiamo vista una a poc'anzi, e anche di eventi culturali in senso lato. È stata un'estate, devo dire, molto intensa, ma il mese di settembre e di ottobre riservano ancora tante sorprese e tanti appuntamenti. Ecco, torniamo sulla viabilità, dovrebbe uscire un'ordinanza quindi? Sì, oggi uscirà un'ordinanza che quindi informerà tutti i cittadini e la popolazione sulle zone che saranno inibite al traffico, però nulla di sconvolgente rispetto al fatto che appunto il mercato europeo occuperà Piazza Pluv, Piazza Narbonne, Via Torino e Via Garibaldi, quindi si estenderà solo una zona in più per appunto inibire l'accesso in Piazza Mazzini. Saranno però disponibili dei parcheggi, uno in particolare gratuito, ovvero il parcheggio della Ville, e i parcheggi ovviamente quelli classici di Via Carrelle e della Consolata per chi accederà al concerto. Allora, grazie a Fabio Molino per essere stato qui con noi. Nei prossimi giorni, nel fine settimana, vi daremo conto di tutte queste iniziative.